19 settembre 2010, siamo nella valle del Grasso Bernardo, siamo in Svizzera in Svizzera, dietro le valle Ferre, lì vedete il Mont Dolan e il Svizzera Ferre, siamo sulla cima Ferrande Ferre, sotto il spazio di Ferre, qui vediamo il panorama che c'è su questo colle, tira un'aria molto fresca, stiamo aspettando Carlo e Mario, ecco qua, lì ci sono tutti i monti della parte est della valle d'Aosta, la vediamo il monte Milius e la l'agricola, riprenderemo la trasmissione sui laghi, così avremo modo di specificare bene il percorso, colle di bastion 2760 metri, dopo aver lasciato la finestra di Ferre, che di qua non si vede, vediamo tutto il percorso sotto e tutto questo di bastion, siamo risaliti e come vedete i due compagni di gita che stanno ancora risalendo, su questo sfasciume a nord, sul col di bastion, qui vedete la catena del Monte Bianco, la Grand Juras, Mont Dolan e un grande paesaggio, giornata splendida in assenza di nulla e di qui abbiamo il Gran Combein, ecco il Gran Combein e il ballone del Col de Cheveux che porta poi al Gran San Bernardo, qui vedete un altro laghetto, noi scenderemo di qua e andremo giù la su quel colle dove c'è quel piccolo nevaietto, la vediamo la griola e qui c'è Fausto che è arrivato sopra questo questo colle e naturalmente ci sono anch'io a risentirti a tutti un saluto un saluto e un arrivederci, una bella gita, si riprende la trasmissione ed ecco noi eravamo al pass di bastion che era in fondo e come vedete c'è tutto il ballone, siamo sese giù a valle e nella pietraia, siamo risaliti, siamo risaliti in questo ripido e ilto sentiero con un dislivello di 500 metri, siamo arrivati qui al pass di chevo, vedete lo stupendo paesaggio, c'è le Grand Juras, Mont Dolan e qui è il pass di chevo, qui il Gran Combein e il Mont Belan, ecco il Mont Belan e qui sotto c'è il passo del Gran San Bernardo dove terminerà la nostra gita, un grande panorama, ecco il Gran Combein come si vede, è bellissimo, giornata stupenda, senza nuvole, ecco vediamo Fausto che sta stricolando qualche tortina e controlla il telefono, qui, ehi, guardiamo, ecco qua, vedete questo grande paesaggio della catena del bianco in mensa e della catena del Gran Combein, vieni prendimi, dai, sto mandando un messaggio che mi hanno chiesto una cosa, eccolo qui, ecco, e come sempre, visto che siamo al termine della gita, mando i saluti e un arrivederci che questa è una bella scampagnata, stupenda, nel paesaggio, lì c'è la catena del bianco, saluti e un arrivederci, saluti e un arrivederci, sei sei ciao 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 ciao